A sorpresa che in maniera del tutto inaspettata la bellissima Emanuela Villa, figlia del grande cantante italiano e Pierluigi Diaco con un fuori televisivo ieri proprio 6 febbraio 2023, hanno cantato e ballato la bellissima nuova sigla di Bella Mas, speciale di San Revo, in onda da quelli al venerdì, alle 3.25 in poverti, su Rai 2, sulle note del bellissimo pezzo Sugar Sugar, quella della grande Lorella Cuccarini, che ha inviato un in bocca al lupo grande e speciale proprio al buon Pierluigi Diaco, il momento è stato molto gustoso, alzardo a dire frissantino, emozioni che il simpatico Pierluigi Diaco, la bellissima e meravigliosa Emanuela Villa hanno trasmesso, però state sensazioni di grande e nonché puro per essere, perché entrambi hanno fatto davvero una bella e nonché magnifica figura. Bene, complimenti dunque alla bella, brava e simpatica, ma meravigliosa e al buonissimo e simpatico Pierluigi Diaco, una copiata vicente per un programma attrae tanto vicente a mio modo a sto fare bene. Iscrivetevi al canale narrativo italiano commentato e ciao a tutti e buona giornata.